ciao ragazzi bentornati sul mio canale oggi sfogliamo insieme il nuovo catalogo della steno c8 andiamo a vedere le novità di questo catalogo come sempre in prima pagina abbiamo l'indice che ci fa capire cosa troveremo durante lo sfoglio nel catalogo qui troviamo subito questo bellissimo pulitore concentrato super potente a 8 euro e 90 questo qui va utilizzato sia all'interno che all'esterno delle nostre case e lo possiamo anche utilizzare sui nostri capi toglie macchie di grasso di vernice ferro battuto e possiamo utilizzarlo anche nel nostro giardino poi abbiamo questi qua che sono dei duranti per ambienti ci sono quattro profumazioni diverse lo possiamo utilizzare nel bc magari in cucina oppure nelle stanze quindi elimina odori del bc di fumo e di frittura poi abbiamo questi altri prodotti che sono gel doccia due profumazioni e qui abbiamo il dosatore sapone liquido che costa 1 e 90 mentre questo gel doccia costa 11 euro e 50 c'è il latte corpo 3 in 1 14 euro e 90 e poi c'è lo sconto su questi rossetti liquidi effetto tattoo 10 euro e 90 c'è lo sconto del 22 per cento andiamo avanti e vediamo gli altri prodotti sempre in offerta qui troviamo questo olio essenziale a 9 euro e 90 poi abbiamo questi altri prodotti tutta la linea a limone leggiamo un attimo insieme con una spesa minima di 19 90 sui rituali da pagina 18 a pagina 29 per te il diffusore più olio essenziali a 9 euro e 90 ragazzi questi sono i prodotti che noi possiamo acquistare per avere l'olio abbiamo questo a 14 e 50 poi la gel idratante 13 90 e acqua profumata sempre 13 90 il gel mani a limone a 5 euro e 50 possiamo acquistare anche questi set come possiamo vedere il primo set 18 e 50 il secondo 11 e 50 il terzo 19 e 90 andiamo avanti troviamo questi altri prodotti che possiamo acquistare per avere l'olio più il diffusore sempre in offerta e anche qui possiamo avere questi set il primo a 16 90 il secondo 18 e 90 poi ci sono altri prodotti sempre per il viso è sempre in offerta qui ci sono tutti i profumi maschili con uno sconto del 45 per cento abbiamo schiuma da parpa gel doccia del dorante qui invece troviamo isolati sempre in offerta andiamo avanti con le creme antiruga ragazzi se qualcuno vuole entrare in questa azienda vi può contattare nei commenti qui ci sono isolati per i bambini prodotti per i piedi di durante sono veramente tantissimi prodotti per tutta la famiglia abbiamo i duranti shampoo prodotti per capelli detergente intimo poi ovviamente ci sono qui dei doni che la sternum fa alle persone che fanno un ordine ogni volta si possono fare dei punti ovviamente con gli ordini che facciamo e poi ricevere questi doni ci sono veramente tantissimi prodotti su questo catalogo e tante offerte adesso stiamo nel reparto make up abbiamo i fondotinta rossetti tutto in offerta vedete vedete e poi siamo tornati nuovo sui detersivi abbiamo lo sgrassatore concentrato che ottimo le spugnette addirittura a soli 399 con l'acquisto dello sgrassatore ci sono veramente tantissime cose per la pulizia di tutta la casa anche sui prodotti per la casa ci sono tante offerte siamo giunti quasi al termine del catalogo questi sono prodotti per la pulizia del nostro bagno questo è ottimo soprattutto per questo periodo possiamo avere due bottiglie di questo qua a 13 euro e 50 quindi scusate a 13 euro quindi abbiamo uno sconto del 50% ragazzi io spero che questo nuovo catalogo vi sia piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale e condividete il video con tutti i vostri amici grazie